Mi chiamo Ilaria Nichini e sono direttore agronomo di Montemaggio da 19 anni. C'avevo nel sangue proprio il vino, perché la mia famiglia, che non è la proprietaria dell'azienda Montemaggio, produceva vino da anni e anni e anni e chianti classico, sempre gallo nero, e quindi dovevo tornare all'origine e fare l'agronomo, da una famiglia di avvocati, quindi niente di più lontano. La mia più grande soddisfazione? Beh, è una domanda interessante, perché ogni prodotto di Montemaggio mi dà grande soddisfazione, ma il mio progetto non è finito a Montemaggio. Ho tanti progetti dopo 20 anni e spero sempre di riuscire a portarli a termine, tutti i miei progetti. Sicuramente voglio che Montemaggio faccia un prodotto di grande qualità, di eccellenza e rispettando l'ambiente. Amo, essendo agronomo, amo tutto ciò che viene dalla natura e fare vino è un po' comunque una forma d'arte. e ora sono un po', come posso dire, presuntuosa, perché comunque, come uno chef in cucina, come un artista davanti a una tela, cerca di dargli un po' la sua identità, ma rispettando il territorio. Cioè, il vino non deve raccontare l'enologo, nella famiglia che produce all'azienda, ma deve raccontare quel territorio. A noi piace bere il vino buono. A noi piace bere il vino buono. Grazie.